Ciao amici di Fisi Mas, da Pablo, il giorno di oggi è un bellissimo allenamento, oggi vamos a lavorare l'addome, non dimentichiamo che per avere un addome così esmaltito è importante una sana e corretta alimentazione di 3 a 4 volte al giorno, dipendendo il fabbisogno di ogni persona, fuori di questo hai che aggiungere l'eercizio aerobico del cerebro, la alimentazione, l'eercizio aerobico e dopo l'eercizio abdominale, il giorno di oggi vamos a fare due cose, che cosa vamos a fare, vamos a lavorare il cardio, il cardio con 3 esercizio e dopo le metiamo 3 esercizio per l'addome così logramos un ottimo resultat ok va bene, per il giorno di oggi abbiamo bisogno di un peso, può essere una bottiglia di acqua di un litro, due litri, una corda, se tu non hai la corda non ti preoccupare, fai finta che hai la corda e salta e salta e salta e salta, allora vamos a fare 3 esercizio 3 esercizio con il metodo Tabata, vamos a fare 40 segundi di esercizio con 10 segundi di recupero vamos a fare questo 3 volti dopo che facciamo le 3 volti che sarebbero 9 vamos a fare una pausa di 30 a 40 segundi così tu prendes un goccio di aria e dopo finalizziamo con il addomen ok, perfetto, vamos a metere qua e mettere qua un conito, un espacio, un espacio che può essere 2-3 metri e il tapettino, il tapettino, la corda e il peso che può essere la bottiglia di acqua o un manubrio, lo che tu hai in casa vamos a muovere un pochino, un pochino, un pochino, un pochino, un pochino, un pochino dietro non sei di Iscrivo dal canale iscriviti iscriviti a questo lasciami un commento Paolo mi servei aiutati un po' i suiko i commenti mi aiutano a riuscire e a nelle 1 altra perfecta fagge Groiletto tant selezione torno indietro, torno indietro, esciendo 1, 2, vamos a portar el talone al glutei, ok cambio 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 ok, perfetto, perfetto, vamos a iniciar, vamos a impostar nuestro timer, vamos a fare o di ejercicio, lo repito 3 voltes, 3 voltes, voy a iniciar el primo con la corda, si tú no hay la corda, no te preocupes, voy jumping ya, 40 segundos con 10 segundos de recupero, me preparo, me preparo, 3, 2, 1, pilla, aspecto las señales ok, vamos a saltar la corda, vamos a saltar la corda por un espacio de 40 40 segundos, 40 segundos, lo importante, debe ser costante, 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 piano, piano, vai sempre a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, cuando hablamos español, español, lentamente, 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 y vaya a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, piano, piano, son 40 segundos, 40, 40, 40 ok, nuovamente, 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 puro cardio, 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 cardio comeciano, salone indietro, salone, guarda, sempre, sempre, alenate a te ritmo, se saran sono persone più forti di pietra anche meno, sale nattie l'ultimo, l'ultimo con la corda dopo tocamos V a B respira, respira, la respirazione è importante si vuole apparire velo sano y forte, deve delotare nessuno te regala niente la scusa non bruciano kilocaloriche prossimo ejercicio toco de A a B continuo continuo spado toco ta 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 en punta toco continuo toco ta toco ta toco ta toco si si ta y resiste resiste maria claudia vamos vamos andiamo michela ta vamos vamos a cambiar de lato cardio cardio toco ta toco ta 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 toco ta toco ta toco ta 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 torno in punta, in punta tocco ultimo tocco 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 40 segundos tocco tocco forza tu puedes postar el cono piovante dependiendo el espacio que tu hay en casa ok vamos a meter un poquito de jumping ya terzo ejercicio tocalo tocalo toca topo de los tres jumping ya andamos con un minuto de pausa y finalizamos con abdomen tocalo 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 non vale fronte, lato, fronte, lato, fronte, là su respira el ultimo, vamos a tirar un poco el puño mantente, guarda tira, tira, defiendete, la defensa skipping corto topo de cuesto, un minuto de pausa e iniciamos ejercicio pelabdomen perfecto damos carico adesso, un minuto de pausa un minuto de pausa tres ejercicios de abdomen vamos a fare 30 segundos con 10 segundos de recupero pero con este ejercicio hayamos bisogno del peso que puede ser una botella de agua un manubre cual cosa pesante que ejercicio vamos a fare vamos a fare con este guarda el ponte, el ponte que faccio que faccio vado avanti ta 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 dos ponte uno due torno indietro nuevamente los 30 segundos el el próximo de abdomen su tapetino no te preocupare no te preocupare ok vamos a iniciare con el tapetino el tapetino el tapetino el tapetino 30 segundos con 10 segundos de recupero ok vamos con nuestro primo ejercicio pelabdomen vamos a modificar el timer que que cual lo de facto por 40 segundos 40 40 40 ok vamos denlo 30 segundos 30 con 10 aproximadamente 5 minutos 5 minutos 5 minutos estos ejercicios son eficaces son eficaces si tu eres una persona costante dorme bene mangia bene fai tutto bene pensa positivo le mete voglia y si eres costante vas a vedere grandes risultati ok perfecto vamos a iniciare con con los 13 ejercicios per el abdomen 13 ejercicios per el abdomen 30 segundos con 10 segundos recupero ok me preparo me preparo me preparo posiciones posiciones todo con este esfuerzo vendrá para gato nesuno te regalan niente nesuno nesuno ok me preparo 3 2 1 via con las señales primo ejercicio primo ejercicio primo ejercicio sub dentro guarda un punto fiso guarda un punto fiso sal contraigo contraigo si si tra contraigo contraigo el abdomen importante que tu respire que tu respire que tu respire que tu respire ah 60 60 60 60 60 el próximo el próximo nuevamente se repite se repite se repite se repite contraigo 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 e siendo va ah si ah si respira se la fai ah sei una persona vincente io consiglio le pareco este ejercicio consiglio parte con este ejercicio al menos de 2 a 3 voltes a la city mano ultimo ultimo ah brucha 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 ok nuestro próximo ejercicio tipo plan tipo plan guardalo tipo plan tipo plan su 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 uno due tres cuatro su el glute su 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 madre de dios sesente 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 elaboro sesente elaboro en el abdomen su M su su un su un n Stem, stess, 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 stess. Forza! Madre di Dio Madre di Dio L'abbiamo quasi per la metà Ok, perfetto L'ultimo Sera il ponte Il ponte Il ponte Il ponte Ok, vado, camino, camino Vado avanti, avanti Lo che io mario riesca Uno, due Torno indietro Ah Nuevamente Sendo Uno Due Torno indietro Uff Nuevamente Avanti, avanti, avanti Uno Uno Due Uff Segundo, segundo Nuestra segunda Ta, avanti Lo que mayor riesca Ta, ta Uno Ta Uff Nuevamente Ta, ta, ta Camino Camino Solamente le braxe camina Ta Uno Due Ah Uh Forza, forza Último Ah Uno Due Ultimo Rauk Ultimo 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 Ah 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 ultimo ultimo per il giorno di oggi abbiamo finito, abbiamo fatto un lavoro molto intelligente, abbiamo fatto primo cardio, dopo il cardio abbiamo fatto esercizi per l'abdomen, non dimenticare che una sana e corretta alimentazione è fondamentale per lograre tu obiettivo, sempre sei costante, sei costante, repite questi esercizi di una a due volti alla settimana, Decore, Pablo